Come in tutti gli strumenti, anche nell'arpa utilizziamo diverse dinamiche. Il range di dinamiche varia dal pianissimo al fortissimo e sforzato. Sia nel forte che nel piano è importante dare la giusta pressione sulle corde, per garantire un suono sempre pulito e deciso. A determinare la dinamica è invece la forza con cui pizzichiamo le corde. Grazie per la visione!